I novax irriducibili sono una percentuale piccolissima, diciamo non superano il 2-3% e quelli è impossibile convincerli perché di fatto è quasi per loro una battaglia ideologica, oltre che naturalmente autoalimentata da tutta una serie di fake news, di notizie inconsistenti. La maggior parte delle persone che hanno qualche resistenza nei confronti delle vaccinazioni non sono novax, sono persone che hanno paura, hanno quello che si chiama esitazione vaccinale e prima della legge Lorenzin sui vaccini erano circa il 30%, ma proprio la legge Lorenzin sull'introduzione dell'obbligo vaccinale per i bambini l'ha ulteriormente abbassato. Diciamo oggi, e ho visto i dati proprio degli ieri o l'altro ieri, non sono più del 15-16%, quindi l'ha di fatto dimezzato. Ora, con queste persone invece è necessario parlare, è necessario spiegare. Certamente la pandemia ha fatto capire l'importanza del vaccino. Di un vaccino in questo momento manca appunto, diciamo, tutta una serie di malattie che non sono protette dai vaccini. Pensiamo alla malaria che produce migliaia di morti, insomma. Allora, se noi avessimo vaccini per tutte le malattie infettive avremmo veramente dato una svolta. In questo caso il vaccino anti-coronavirus è stata veramente una svolta, perché se non l'avessimo avuto staremmo ancora a contare decine di migliaia di morti in più rispetto a quelli già tanti che abbiamo.